FALLO ENTRARE! STA BUSSANDO! AL TUO CERVEllo! Riqui Leroy! Il Martello! Speciale saluto alle ragazze di Torino! Riqui Leroy! 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 Saluteiamo Ricky Nerva Un applauso per favore Bravi, bravissimi Popolo del Kennedy E' ora Un mio grande amico Lo chiamano Il professore Paolo Keguinets 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Paolo, stai, tieni su! Paolo, tieni un messo a noi! Tieni a facci vedere la ferravo! Paolo, paolo, tieni un messo! Paolo, stai, tieni un messo a noi! Paolo, stai, tieni un messo a noi! Dov'è, tieni, ullo, ricetario? Pala Pala Pina Pala 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 Pagano, Pagano, Pagano! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Paolo Kigine in after hour. Grazie a tutti. 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 Paolo Kigine. Puoi sentire che siete ancora vivi. Puoi sentire... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.